Ora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1 tra Orvieto e Chiusi verso Firenze. Ci sono 12 km di coda con tendenza all'aumento per incidente avvenuto all'altezza del km 418 che ha coinvolto tre vetture. Al momento il traffico defluisce solo sulla corsia di marcia. In alternativa per chi è diretto a Firenze si può uscire a Orvieto e dopo aver percorso la viabilità ordinaria si può rientrare in autostrada a Chiusi. Sempre in A1 coda e attratti verso nord tra Firenze e Sud e B1 variante e tra Firenze e Sud e Firenze e Scandicci. In A12 un km di coda e attratti per lavori tra B2A12, Ramazzino e Rivorno e Pisa Centro verso Genova. In FIPI lì coda in uscita alla Strassigna per chi proviene da Firenze. Moversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con la regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio. Grazie a tutti.